Calcolare il valore numerico di un'espressione polinomiale. Considera l'espressione letterale 3AB-4A più B alla seconda. Calcola il valore che assume se A uguale meno 4 e B uguale 9. Premi in successione i tasti a video. Sullo schermo appare la scritta EXPR-EXPR. È possibile digitare un'espressione letterale. Digita l'espressione scrivendo le variabili e le operazioni tra di esse. Al posto della lettera A e B, date nella consegna dell'esercizio, devi utilizzare le variabili X, Y. Per digitare le variabili utilizza il tasto a video. Se lo premi una volta ottieni la variabile X, se lo premi due volte la variabile Y e così via. non è necessario scrivere il segno di moltiplicazione tra le variabili. Premi ENTER. Prima di ottenere il risultato, devi inserire i valori da assegnare a X e Y. Compare in primo luogo la schermata in cui digitare il valore di X. Se premi ENTER, puoi invece digitare il valore da assegnare a Y. Premendo nuovamente ENTER, ottieni il valore dell'espressione letterale calcolato sostituendo a X e Y i valori dati. Premi ENTER, puoi invece televisare il valore dell'espressione letterale A L'evalore dell'espressione letterale A L'evalore dell'espressione letterale Perwarmare, vuoigrade, vuoi invece leggere il valore dell'espressione letterale Cominciamo. Grazie a tutti.